Da questo momento in poi le larve continueranno il loro sviluppo da solo. Che cosa succede? Vengono rinchiuse. Dopo la deposizione dell'uovo, la piccola ave esce. La ave esce infine dalla sua cella. E dalla sua cella. Cucù. Ma non è. Ascita. Primo compito, fare le pulizie. Nei primi tre giorni di vita, l'ave pulisce le celle. La nostra ave lavora speditamente e con grande cuore. E' un insetto molto meticoloso. Che cos'è un insetto? E' un animale che ha sei zampe e il corpo diviso in tre regioni distinte. E' un animale che si tratta. Grazie a tutti.